Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 Oggi vi mostrerò come fare la foresta rossa usando un alabarda e una palestra Facendo un'ottima combo, ma un'ottima combo sgomberando tutta la foresta rossa Quindi vi auguro una buona visione e noi ci vediamo dopo la intro C'è un po' di alberi, cerca di buttarlo giù Allora qui c'è un albero Vieni qua, l'ho già ucciso Ci sono dei bauli dall'altra parte Uccidiamo, lo uccidiamo Fai il danno critico, fai il danno critico Vai 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 Mamma mia, troppo Iesi, troppo troppo Vai vai vai, buttalo a te Butta giù quest'albero Vieni qui, vieni qui Vieni, vieni Un attimo, un attimo, non riesci a spassare qua Qua, salverò qua, bisogna avastare Non, 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 ce la possiamo, vai, ferma, ferma Ferma, ferma Ferma, ferma Non, non ci teniamo su, non ci teniamo Guarda NOOOO GOD Un shot Guarda, guarda Aiuto, 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 vai vai Vieni qui, vieni qui, andiamo a fare una cassa No, questa No, questa Vieni, questa Sì, vieni, sì, vieni Non parlo No, vieni Sennò è Sennò è Aspetta, aspetta No Non pensare al torneo No, no, non pensare al torneo Così troviamo le cose nel baule Vieni, vieni Vieni, vieni Sennò è Stammi da la cosa che hai in mano? È intera? Eh, lo uccidi così Vai, finisimo, finisimo Vai, tutto tuo, vai, tutto tuo Quanti zombie Tutto tuo, vai Ammazza la cassa? Ahhhh No, 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 la cassa No Ci diamo a quello Ci diamo Qui c'è un'altra cassa Molto, molto facile, vieni, vieni Vieni Oddio, lo zombie Nooo Vuoi farlo fuori? L'ho matto L'ho matto Sì, vai, vai Beh, ah, ah, ah Che combo Aspetta Ecco, vai Finisci Vai Aiuto, vai, vai, aiuto, vai Scappa, scappa, vattene, vattene, scappa T'aiuto, scappa, scappa Il coglione è tornato Oh Oh, porca No, no, aspetta Fai il danno critico Vai, vai Oh Oh Madonna mia Curati, curati, curati Curati, curati Pronto Fai il danno critico Fai il danno critico Fai il danno critico Boom Morto Ok Morto Oddio, altri due, altri due Dall'altra parte Vieni, facciamo il giro Facciamo la tecnica ping pong Facciamo la ping pong Spacca la cassa VIA 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 DES gene Allora, cosa hai trovato? Ho trovato Un attimo che vedo Eccolo qua Dimmi se hai trovato una USB No, non l'ho trovata Non l'ho trovata No, no, no Quanto mi ha dato? No, quanto mi ha dato Oh, vieni, vieni, vieni Guarda, guarda Ma quest'albero lo prendo io Lo prendo io quest'albero Vai, lo prendo io Vai, lo prendo io, dai Vai Fuori Guarda Guarda, guarda Guarda No, guarda No, guarda, guarda Fermo, fermo, aspetta, aspetta Possiamo ancora farci Non hai detto Seguimi Ammazziamo prima quel minuto E poi ne facciamo uno a uno Sì, sì, piano, piano, piano Vai, tutto tuo, vai, tutto tuo Ma stai consumando Oh, scappa Scappa Vai, uccidilo, tutto tuo Tutto tuo Dobbiamo massare un grassone, bro Tutto tuo, ti aiuto Sto aiutando Sto aiutando Vai Vai, tutto tuo, vai Prendilo, prendilo 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 Siamo quelli vicino alla cassa Dov'è? Ma la cassa Aspetta Vai 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 240 Vai Finiscilo Finiscilo È morto È morto Vai 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 Aspetta Aspetta Mi culo Mi culo Usa le penne Usa le penne Nè, ma gli faccio due colpi è morto Aspetta Ok 85 Vai Tutto tuo Fallo a pezzi Vai Finiscilo Tutto tuo Vai 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 Ok No, no, no Non usare l'arma Usa una lancia Cosa c'è? Dimmi se c'è una Usb 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 Magari ci si fosse Che cosa hai trovato? Ho trovato Ruttami E collo No God Un'arma no Please no 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 Sto curando Aspetta Spunghi qua Spunghi qua Prendili tu Non ho spazio Non ho spazio Prenditi Non sali i zoni Sono buoni E poi non ce l'hai Vai Ah qui ci sono i funghi I funghi Li prendo io Oddio C'è la stiamo scomberando C'è la stiamo scomberando Praticamente Allaparda e balestra E' tutto tuo Se stai facendo il torneo Fallo Vai ce la fai Vai Oh A che c'entro io Mi ha preso il gas Vai Sgompriamo la zona Comunque Quanto sta la tua Allaparda La tua arma Quanto sta Un secondo Aspetta 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 Perché Oddio Scappa Scappa Vai tutto tuo Magari trovare un grassone Che ci abbiano Vai 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 Finisci Va Brava Prendi Non di sette di tessuto Sette Mi vado a prendere In fretta Donna Brucette Non di vita Bro Abbiamo Sgombrato la zona Mamma mia Professionisti E poi stavo anche registrando Sto ancora registrando Facciamo 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 Faccio vedere Quanto sta la mia Spero tanto che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Lascia like Iscriviti al canale Attiva anche la campanellina Perché noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao a tutti